Bene la manovra del governo per il lavoro autonomo ai professionisti e il giudizio che arriva dai consulenti del lavoro. Nella finanziaria ma anche in altri provvedimenti come Geobact Autonomi che sono in discussione in questo momento c'è una maggiore attenzione ai libri professionisti e ai lavoratori autonomi in generale. Questo già è importante perché siamo passati da una visione di un Paese che era molto attento soltanto ai lavoratori subordinati, cosa assolutamente corretta e dovuta, ma anche attento alle esigenze e ai diritti di quelli che sono lavoratori autonomi che finora hanno praticamente soltanto dei doveri. Il Geobact Autonomi va in questa direzione, sono tante le previsioni, anche i studi di settore se verranno interpretati nella loro ipotesi di riforma non come uno strumento di accertamento. Questa è la grande differenza che deve sottostare alla riforma dei studi di settore. È inutile cambiare il nome o modificarne in qualche modo le modalità attuative e l'importante è la filosofia, è lo scopo che bisogna centrare. Non possono essere uno strumento di accertamento come invece molto spesso si trasformano. Attenzione però alle norme per la flessibilità in uscita in campo previdenziale. È una flessibilità onerosa per i lavoratori, noi abbiamo fatto delle proposte per verificare le potenzialità di variazioni perché non vorremmo che questi oneri a carico dei lavoratori possano non agevolare l'efficacia di questo intervento.